La cristalloterapia è una pratica antica che sfrutta le proprietà energetiche delle pietre per favorire il benessere fisico, mentale ed emotivo delle persone. Ogni pietra ha una vibrazione energetica unica che può influenzare positivamente i diversi segni zodiacali dell'oroscopo cinese. In questo articolo, esploreremo le pietre in cristalloterapia e i loro effetti sui segni zodiacali dell'oroscopo cinese. Ratto, 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Il ratto è un segno intelligente e creativo. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno del ratto includono l'ametista, che favorisce la calma mentale e l'intuizione, e l'agata, che promuove l'equilibrio emotivo e la protezione energetica. Bue, 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Il bue è un segno affidabile e paziente. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno del bue includono l'agata di fuoco, che stimola la passione e l'energia vitale, e il quarzo fumé, che favorisce la stabilità emotiva e la protezione energetica. Tigre, 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 La tigre è un segno coraggioso e passionale. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno della tigre includono l'occhio di tigre, che promuove la fiducia in sé stessi e la protezione energetica, e il corniola, che stimola la vitalità e la creatività. Coniglio, 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Il coniglio è un segno gentile e intuitivo. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno del coniglio includono la moonstone, che favorisce l'equilibrio emotivo e l'intuizione, e la pietra di luna arcobaleno, che promuove la calma e l'armonia interiore. Drago, 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Il drago è un segno potente e carismatico. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno del drago includono l'ossidiana nera, che favorisce la protezione energetica e la chiarezza mentale, e l'agata di fuoco, che stimola la passione e l'energia creativa. Serpente, 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Il serpente è un segno misterioso e intuitivo. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno del serpente includono l'ametista, che favorisce la connessione spirituale e l'intuizione, e la giada, che promuove l'equilibrio emotivo e la prosperità. Cavallo, 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Il cavallo è un segno avventuroso e dinamico. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno del cavallo includono l'avventurina, che stimola la fortuna e la prosperità, e la turchese, che favorisce l'equilibrio emotivo e la protezione energetica. Capra, 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. La capra è un segno gentile e compassionevole. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno della capra includono il quarzo rosa, che promuove l'amore e l'armonia, e la selenite, che favorisce la pace interiore e la connessione spirituale. Scimmia, 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. La scimmia è un segno intelligente e giocoso. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno della scimmia includono l'agata di fuoco, che stimola la passione e l'energia creativa, e l'avventurina, che favorisce la fortuna e la prosperità. Gallo, 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Il gallo è un segno ambizioso e leale. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno del gallo includono l'agata di fuoco, che promuove la determinazione e l'energia vitale, e le matite, che favorisce la protezione energetica e la forza interiore. Cane, 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Il cane è un segno leale e protettivo. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno del cane includono l'ossidiana nera, che favorisce la protezione energetica e la chiarezza mentale, e il quarzo fumé, che promuove la stabilità emotiva e la fiducia in sé stessi. Maiale, 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031. Il maiale è un segno generoso e affettuoso. Le pietre consigliate per i nati sotto il segno del maiale includono la corniola, che stimola la vitalità e la creatività, e la pietra di luna, che favorisce l'equilibrio emotivo e la connessione con l'intuito. È importante notare che queste sono solo alcune delle pietre che si ritiene abbiano un effetto benefico sui segni zodiacali dell'oroscopo cinese. Ogni individuo è unico, quindi è consigliabile consultare un esperto di cristalloterapia per scoprire quale pietra sia più adatta alle proprie esigenze. In conclusione, le pietre in cristalloterapia possono offrire numerosi benefici ai diversi segni zodiacali dell'oroscopo cinese. Scegliere una pietra che si adatti al proprio segno può aiutare a bilanciare le energie e promuovere il benessere in vari aspetti della vita. Sperimentare con le pietre e la cristalloterapia può essere un modo eccitante per migliorare la propria vita e connettersi con le forze energetiche che ci circondano. Grazie.